Presentato a Udine il manuale per l'insegnamento delle lingue e della cultura friulana alla scuola primaria. Il progetto promosso dall'Agenzia regionale per la lingua friulana ha richiesto oltre tre anni di lavoro a una squadra di 40 esperti. Entro novembre saranno consegnati oltre 20.000 volumi a 247 istituti scolastici. Il manuale presenta un'attenzione specifica al linguaggio di genere e alla valorizzazione della figura femminile.